Fino ad aumentare le guarigioni nei comuni del Vesuviano, bilancio in Parigio ieri per Torre del Greco. Sono 42 infatti i nuovi positivi registrati al centro operativo comunale a fronte ai 41 cittadini guariti. Il numero di tuttora contagiati sale quindi di una sola unità rispetto a ieri, arrivando a 902 torresi, di cui sempre 19 ospedalizzati. Picco di guarigioni è anche a Torre Annunziata, con 76 cittadini risultati guariti nella giornata ieri, a fronte di 23 nuovi casi di contagio, numeri che però non bastano a rassicurare. Infatti ieri sono stati confermati 4 plontini deceduti a causa del virus. 360 restano quindi i cittadini attualmente positivi, di cui 10 ospedalizzati. Si tiene relativamente basso il numero dei nuovi contagiati anche a Castellammare di Stabbia, nonostante l'alto numero dei tamponi. I cittadini risultati positivi al coronavirus sono 36. Tra di essi 13 presentano sintomi lievi della malattia. Tra i nuovi contagiati, purtroppo, ci sono ancora giovanissimi, un bambino di 11 mesi, due di 5 anni e due di 10 e 15 anni. I guariti sono invece 19. Arriva 1367 il bilancio dei tuttora positivi.